Musica Urti con cavallo di ritorno a Palermo, 7 arresti e 22 indagati chiedevano da 300 a 1500 euro per restituire i mezzi rubati. Arrestati a Villa Abate, due corrieri della droga trasportavano 28 kg di hashish nascosti nel bagagliaio. Operazione Fish Reproduction 2024 della Guardia Costiera della Sicilia orientale a tutela della filiera pesca. Oggi a Palermo il Consiglio Generale Cisle Sicilia per l'elezione del nuovo segretario. I 60 anni è l'azienda municipale Trasporti di Catania MTS attraverso la transizione ecologica e i progetti futuri. Ben trovati alla prima edizione di Media News in apertura. Parliamo del fenomeno di furti d'auto e di scooter con cavallo di ritorno a Palermo. Perché ci sono stati 7 arresti e 22 indagati chiedevano da 300 a 1500 euro per restituire i mezzi rubati. All'alba di oggi a Palermo i carabinieri della Compagnia San Lorenzo insieme a personale della squadra mobile sezione reati contro il patrimonio hanno arrestato 7 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio, rapina e distorsioni. L'operazione del risultato di un'indagine avviata nel 2021 condotta dal nucleo operativo della Compagnia San Lorenzo è contestualmente con analoga attività dalla squadra mobile della Questura al termine della quale è emersa l'operatività di un sudalizio criminale i cui componenti sono ritenuti responsabili di una rapina a mano armata nonché di numerosi furti di autovetture e di motocicli in relazione ai quali gli arrestati avrebbero con il metodo del cosiddetto cavallo di ritorno estorto ai proprietari somme di denaro oscillanti tra i 300 e i 1500 euro per tornare in possesso dei loro mezzi. In particolare i destinatari dei provvedimenti restrittivi, tutti abitanti nel quartiere di San Filippo Neri sono ritenuti responsabili di numerosi furti commessi nel capoluogo e nei comuni limitrofi avvalendosi anche della complicità di altri indagati. Le indagini nel loro complesso hanno fatto luce su 26 episodi di estorsione, 28 furti, 19 ricettazioni, una rapina aggravata ed una condotta di riciclaggio. Nel corso dell'attività tre persone sono state arrestate in flagranza di reato e ulteriori 13 sono state denunciate a piede libero per reati consumati e tentati di furto e ricettazione. Complessivamente risultano indagate in stato di libertà altre 22 persone. Arrestati a Villa Abate due corrieri della droga che trasportavano 28 chili di hashish nascosti in un doppio fondo ricavato nel bagagliaio. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 28 chili di hashish nascosti in un'autovettura sottoposta contro la Villa Abate. Una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo dopo aver fermato un veicolo ha identificato i due passeggeri, un uomo e una donna, i quali mostrandosi da subito particolarmente agitati hanno fornito dichiarazioni contrastanti circa la destinazione e i motivi del viaggio. I militari hanno quindi effettuato un'ispezione del mezzo con l'ausilio del cane antidroga del gruppo pronto impiego e hanno trovato in un doppio fondo ricavato nel bagagliaio 21 involucri del peso di circa 1,3 kg ciascuno per un totale di 28 chili di hashish. Lo stupefacente, qualora immesso al mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per circa 300.000 euro. I corrieri sono stati condotti nel carcere Lorusso Pagliarelli. Il GIP ha convalidato la misura cautelare disponendo gli arresti domiciliari per uno degli indagati. Operazione della Guardia Costiera della Sicilia orientale a tutela della filiera pesca Operazione della Guardia Costiera denominata Fish Reproduction 2024 finalizzata alla tutela della biodiversità e delle diverse specie ittiche che in questo periodo dell'anno si riproducono nei nostri mari. Il coordinamento a livello regionale dal Centro di Controllo Aria e Pesca della Direzione Marittima e Tinea a livello compartimentale dai comandi dipendenti dalla provincia di Ragusa a quella di Messina e ha portato complessivamente all'effettuazione di 638 controlli. Inoltre 40 sono stati illeciti tra amministrativi e penali, 19 attrezzi da pesca irregolari o illecitamente detenuti sottoposti a sequestro, 56 mila euro circa, le sanzioni pecuniarie e una tonnellata complessiva di prodotto ittico sequestrato. Tra le numerose operazioni condotte dai team ispettivi e dai comandi interessati dalla Direzione Marittima della Sicilia Orientale ci sono a Siracusa, nel porto di Marzamemi, è stata sanzionata un'imbarcazione da diporto irregolarmente armata con attrezzi da pesca e pronta per essere impiegata in attività professionale. Al trasgressore è stata combinata una sanzione di 3.300 euro. A Catania, nel corso di una verifica effettuata lungo le vie del trasporto cittadino su strada, sono stati rinvenuti all'interno di un veicolo isotermico, 18 esemplari di pesce spada di taglia biologica, inferiore a quella consentita per la cattura e la commercializzazione per un complessivo di 153 kg. Al trasgressore è stata contestata la violazione per l'ammontare di 14 mila euro e il contestuale sequestro della specie ittica illegalmente detenute. A Pozzallo, nel corso dell'attività, nello specchio acqueo antistante la località Donna Lucata del comune di Scicli, in provincia di Ragusa, una motopesca della locale marineria è stata intenta in attività di pesca illegale a Strascico, a circa 2 miglia dalla costa, su un fondale di 30 metri. Il personale operante ha proceduto al sequestro dell'attrezzo da pesca e del pescato, elevando a carico dei soggetti la sanzione amministrativa di 2 mila euro. Inoltre, sono stati decurtati sei punti per infrazioni gravi, rispettivamente sul titolo professionale del comandante della motopesca e sulla licenza di pesca dell'armatore. La guardia costiera della Sicilia orientale, attraverso la costante azione di coordinamento dei rispettivi comandi compartimentali in forza di specifiche attribuzioni in materia di pesca marittima, demandata al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie, Centro di Controllo Nazionale della Pesca, assicura la propria costante azione a tutela e a garanzia della conservazione e dello sfruttamento delle risorse ittiche in condizioni di piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica, a salvaguardia del prezioso e delicato ecosistema marino costiero e a tutela della collettività e degli operatori di settore che esercitano nella legalità le proprie imprese di pesca. Ancora cronaca, decreto di fermo di indiziato nei confronti di un catanese di 34 anni per i reati di tentato, omicidio e detenzione porti in un luogo pubblico di un'arma comune da sparo. Un decreto di fermo di indiziato nei confronti di Gianluca Patti, nato a Catania nel 1990, in quanto gravemente indiziato dei reati di tentato, omicidio e detenzione porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo. Le indagini sono scaturite da una segnalazione dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi che hanno permesso di acquisire allo stato degli atti elementi che dimostrerebbero come l'indagato sarebbe stato l'autore dell'afferimento di una persona sottoposta di intervento chirurgico con conseguente estrazione di due ogive e successivamente ricoverata presso il reparto di ortopedia con diagnosi di ferite da arma da fuoco multiple e prognosi di 20 giorni. Pare all'origine ci siano stati dei contrasti di natura familiare, repertando due bossoli calibro 7,65 nonché le ogive dei tre proiettili che avevano attinto la vittima. In relazione a questi fatti l'uomo è stato sottoposto al fermo di indiziato di delitto emesso dall'ufficio della procura distrettuale di Catania venendo condotto poi prima presso gli uffici della squadra mobile e successivamente ultimati gli atti di rito è stato associato presso la casa circondariale catanese di Piazza Nanza. E cambiamo decisamente argomento oggi a Palermo Consiglio Generale della Cisle Sicilia per l'elezione del nuovo segretario ha partecipato anche il segretario generale del sindacato Luigi Sbarra vediamo. Il Sud sta vivendo da un anno un anno e mezzo una dinamica di crescita importante il PIL cresce più che nel resto del paese e al Sud comincia a crescere positivamente anche l'occupazione soprattutto nella componente a tempo indeterminato e anche per quanto riguarda le donne bisogna fare di più sull'occupazione giovanile e bisogna portare a regime nel mezzogiorno tutti gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione per sostenere crescita sviluppo qualità e stabilità del lavoro ci sono le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci sono le risorse del nuovo ciclo di fondi strutturali 21-27 abbiamo lavorato per la ZES unica in tutto il mezzogiorno nelle isole per elevare le condizioni di attrattività delle imprese quindi c'è una prospettiva sicuramente positiva che va rafforzata va consolidata anche qui attraverso il dialogo e il confronto con le classi dirigenti locali il 2 saremo in piazza per chiedere al governo e al Parlamento modifiche a questo decreto sicurezza soprattutto nella parte in cui trasforma sanzioni amministrative in pene detentive per quanto riguarda eventuali blocchi stradali o manifestazioni sindacali noi pensiamo che bisogna assicurare il diritto a protestare e manifestare pacificamente in una parola noi dobbiamo tenere in equilibrio e contemperare i temi dell'ordine pubblico la salvaguardia dei nostri beni pubblici anche con il diritto a protestare e manifestare soprattutto quando lavoratori vedono una prospettiva di chiusura delle aziende o quando c'è la minaccia di licenziamenti o di cassa integrazione non si può frenare ecco perché diciamo protestare e manifestare pacificamente senza violenza non è un crimine ecco perché il Parlamento farebbe bene a rivedere e a modificare parti importanti di questo provvedimento legislativo Cento piazze per l'equità e lo sviluppo lo slogan della mobilitazione nazionale dell'UGL per una finanziaria sociale con una serie di proposte su aumento degli stipendi delle pensioni sostegno alle famiglie e sicurezza nei luoghi di lavoro anche a Palermo a piazza Castelnuovo l'UGL è sceso in campo una mobilitazione nazionale oggi anche a Palermo in piazza perché siete qui siamo qui perché a dicembre viene varata la legge di bilancio la segreteria generale ha fatto un'ottima iniziativa scegliendo Cento piazze per l'Italia per sollecitare il governo affinché la legge di bilancio preveda le fasce più deboli e noi dalle fasce più deboli parliamo proprio dai lavoratori ai poveri che non hanno neanche un reddito alla sanità ai beni essenziali al trasporto pubblico locale abbiamo migliaia di emergenze in questo paese e i soldi vanno investiti soprattutto sul popolo perché il popolo in maggioranza parliamo ormai da un ventennio da quando è entrato l'euro da quando abbiamo perso tutti qualcosa e oggi si continua a perdere anche famiglie che ormai hanno un reddito che riuscivano a mettere da parte dei soldi oggi non ci arrivano più la verità è questa quindi figuriamoci chi non ce l'ha il reddito dal suo punto di vista chi sono i nuovi poveri è cambiato il concetto di povertà ma prima i nuovi poveri o i vecchi poveri era chi non aveva un reddito non lavorava ed era in condizioni disastrate oggi questa soglia invece di diminuire l'abbiamo mentata perché adesso i nuovi poveri sono la fascia media che non esiste più che era la maggioranza del paese cioè tutti quelli che lavorano che hanno uno stipendio per oggi avere un CUD sotto i 28 mila euro 30 mila euro significa quasi essere dei poveri perché non arrivi più né a pagare le bollette il mutuo la spesa l'asilonismo cioè ci sono delle condizioni così pesanti che creano incertezza a tutti le parti migliori del nostro territorio fra l'altro i giovani che si laureano i medici gli infermieri vanno via perché fuori trovano di più e vengono pagati anche meglio e se non investiamo in questo che sono le basi cioè sulle famiglie sui servizi essenziali che sono la sanità il trasporto soprattutto ne parliamo di una regione come la nostra la Sicilia che è vergognoso cioè noi abbiamo un'Italia spaccata in due si parla da 50 anni della causa del mezzogiorno non abbiamo fatto altro che peggiorarla perché dalla campagna in su adesso con la viabilità con il frecciarrosso insomma si riescano a raggiungere le località in mezz'ora o un'ora noi per andare dall'altro lato della Sicilia impieghiamo 4-5 ore con disagi incredibili monorotaie ancora siamo le strade disastrate cioè ne abbiamo delle autostrade che sembrano delle strade provinciali cioè noi se non modifichiamo la viabilità prima sì il ponte sullo stretto che se ne parla tanto è importante ma prima modifichiamo tutto quello che c'è all'interno dicono che ci sono fiumi di denaro PNRR tutti parlano di miliardi ma li vediamo in caduta sui servizi essenziali io non li vedo credo neanche i cittadini una nuova casa per la tutela dei diritti dei lavoratori per rispondere a diverse esigenze degli inquilini dei consumatori dei pensionati di chi ha bisogno della presenza del sindacato e del volontariato è stata inaugurata la nuova sede della CISL Palermo Trapani in via Sacra Famiglia 1824 a Palermo vediamo un sogno che si realizza che mette insieme idee che mette insieme partecipazione che mette insieme tutto quello che per noi è importante come organizzazione quando abbiamo visto questa sede ce ne siamo subito innamorati perché consentiva di poter stare tutti insieme poteva servire per dare risposte alle persone ecco perché questa sede diventa appunto di riferimento del territorio questa sede diventa appunto di riferimento delle associazioni degli enti delle federazioni e la presenza oggi della nostra segretaria generale aggiunta all'inaugurazione di questa sede ci dà proprio l'idea di questa grande squadra che lavora insieme in sinergia a tutti i livelli di questa organizzazione che ha bisogno del territorio che ha bisogno delle persone ecco oggi tutti devono sentirsi protagonisti di questa scelta non è il merito di nessuno è una squadra che lavora una squadra che costruisce qualcosa che possa dire per il futuro per noi questo è importante e su questo siamo veramente veramente contenti di quello che abbiamo fatto e soprattutto siamo contenti di poter lavorare insieme è un bellissimo momento una bellissima giornata una bellissima sede che dimostra come è importante fare la scelta della prossimità quella che noi abbiamo fatto in tutti questi anni e farla insieme insieme a tutte le categorie gli enti i servizi le associazioni la CISL di Palermo Trapani ha dimostrato in questo modo di offrire alla cittadinanza una sede accogliente servizi a disposizione delle persone che rappresentiamo ma soprattutto ha dimostrato che insieme si può realizzare anche un sogno lo hanno definito così ma insieme noi dobbiamo continuare ad occuparci dei problemi di questo territorio un territorio importante che ha tante potenzialità ma anche alcuni problemi irrisolti e allora una CISL così ben organizzata e al servizio delle persone penso che sia la migliore risposta che noi potessimo offrire i 60 anni dell'azienda municipale trasporti di Catania MTS attraverso la transizione ecologica e i progetti futuri ascoltiamo il presidente Giacomo Bellaria Presidente parliamo della MTS 60 anni non li dimostra siamo 1964 2024 tanto è cambiato tanto si è investito insomma in quello che è il trasporto pubblico a Catania assolutamente sì e dietro ne abbiamo tanti esempi abbiamo intanto investito per rinnovare completamente la flotta la flotta oggi è super nuova con una efficienza anche energetica importante tant'è che il grosso dei mezzi sarà elettrificato quindi questi sono dei bus elettrici ne abbiamo comprati circa 200 che in questi anni si stanno ricevendo dalle ditte costruttrici ovviamente a Scaglioni e poi ci sono tante misure di mobilità sostenibile l'aiuto al comune nel creare le aree pedonali le ZTL la mobilità dolce quindi con le bici che abbiamo qui anche elettriche il car sharing c'è anche questa cosa dei biglietti siamo innovati anche sul tema della bigliettazione elettronica proprio per intanto mettere l'utente nelle condizioni di accedere alla bigliettazione con diversi mezzi sia online che offline ma anche per consentire all'azienda di differenziare l'offerta quindi oggi potremmo fare anche dei biglietti speciali delle agevolazioni settimanali o mensili insomma ecco un'offerta tariffaria che può essere tagliata in maniera molto più dinamica alle esigenze dei cittadini e anche dei turisti si avvicina a Natale l'MTS è pronta ma sempre ogni anno a Natale facciamo sempre qualche piccola iniziativa sia supportando i commercianti quindi per iniziativa sia sulla sosta che sul trasporto pubblico ma anche qualche iniziativa di solidarietà e di vicinanza al mondo dei quartieri al mondo delle scuole eccetera quindi sicuramente a Natale avremo sempre qualche sorpresso giornata mondiale del turismo secondo incontro al San Paolo Palace di Palermo occasione di confronto e sintesi per le imprese del settore c'è stato tanto interesse per questa nostra proposta sulla Sicilia turistica del prossimo quinquennio ha partecipato anche seppur da remoto l'assessora al turismo Elvira Amata che ha condiviso questa esigenza di puntare sull'allungamento della stagionalità proprio come primo obiettivo principale da perseguire ormai la Sicilia proprio per la sua offerta sufficientemente differenziata cerca qualunque tipo di viaggiatore esploratore o turista che possa interessare a visitare la Sicilia dal turismo giovanile al turismo del lusso il problema diventa governare questo fenomeno affinché ogni pezzo di territorio possa riqualificare la propria offerta sulla base di queste esigenze sotto il profilo economico siamo sufficientemente competitivi rispetto alle altre regioni d'Italia beh la competizione nasce intanto dal problema del trasporto aereo se non si risolve quello che la madre di tutti i problemi della riqualificazione diventa tutto estremamente difficile però devo dire che c'è un grosso impegno da parte delle imprese del ricettivo a formalizzare delle nuove offerte più qualificate e anche più competitive affrontare il tema dell'allungamento della stagionalità consentirebbe già di farlo iniziando dai primi cinque mesi che vanno da novembre a marzo che sono i problemi i periodi più difficili i flussi turistici che gestiamo sono legati alle ricerche che vengono diciamo prese da tutti gli hotel su una data destinazione al momento riusciamo a gestire più di duemila destinazioni in Italia che ci consentono di capire in anticipo quante persone arriveranno da quale nazionalità per quanti giorni e quindi questo ovviamente sono dati importanti perché consentono di fare forecast e quindi di elaborare strategie e vedere soprattutto come risponde il mercato quindi i turisti alle campagne alle strategie che le regioni applicano per attirare i turisti se dovessimo parlare nello specifico della Sicilia quali sono le stagioni mesi più intensi e soprattutto quali sono i mesi da potenziare ovviamente la Sicilia vince di gran lunga il turismo legato estivo quello legato al mare è stato fatto un tentativo di destagionalizzare quindi di allungare la stagionalità che ha avuto i suoi frutti l'anno scorso mentre quest'anno abbiamo avuto un piccolo calo dovuto a due ragioni sostanzialmente la prima è quella un po' globale è un fenomeno quello di riduzione dei flussi turistici che abbiamo avuto un po' in tutta Italia dovuto all'innalzamento dei prezzi e alla forte concorrenza di altre destinazioni anche all'estero però diciamo dall'anno prossimo rivedremo sicuramente un trend in continua scesa è la giornata mondiale del turismo celebrata ogni anno il 27 settembre il giorno appunto di promozione globale del valore sociale culturale politico ma anche economico del settore turistico per rendere ogni suo ambito sostenibile inclusivo ed accessibile l'edizione di quest'anno è incentrata sul tema turismo e pace e noi siamo stati alla GAM di Palermo oggi è la giornata mondiale del turismo dedicata al turismo e la pace qual è l'importanza rilevante del museo d'arte moderna per la città di Palermo la Civica Galleria d'Arte Moderna Impedio Clerestivo che è stata fondata nel 1910 è il museo civico della città e quindi rappresenta le sue opere più significative e rappresenta il patrimonio artistico culturale più importante per la nostra città formatosi con le esposizioni nazionali e internazionali dal 1981 fino alle Biennali di Venezia dell'inizio del secolo scorso raccolle una collezione di neoclassicismo paesaggismo e autori quali Ettore De Maria Bergler che hanno fatto l'Art Nouveau ai tempi in cui Palermo era una delle capitali europee dell'Art Nouveau e quindi noi invitiamo tutti a venirci a trovare a fare un giro in questa magnifica galleria rappresentativa del nostro essere veramente palermitani internazionali e in particolare in una giornata celebrata nel mondo intero grazie all'organizzazione mondiale del turismo che appunto oggi è dedicata alla pace la mostra a Palermo rifiorisce con Santa Rosalia in esposizione attualmente alla Galleria d'Arte Moderna fino all'8 dicembre 2024 dal 1 ottobre al 7 ottobre sarà ugualmente in esposizione nella sala Palazzo Capitano del Popolo del Comune di Assisi in occasione dei solenni festeggiamenti del Patrono d'Italia San Francesco quest'anno sarà la Regione Sicilia ad offrire l'olio per la lampada votiva dei Comuni d'Italia che arde sulla tomba di San Francesco in rappresentanza saranno presenti il Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani e il Sindaco del Comune di Palermo Roberto Lagalla in rappresentanza dei Sindaci d'Italia e torniamo anche oggi a parlare di Archeo Experience nell'Isola dei Tesori l'iniziativa in corso ad Agrigento dedicata alla conoscenza e alla valorizzazione delle aree archeologiche siciliane qui nella futura Capitale Italiana della Cultura si svolgerà un'iniziativa ricca di contenuti con conferenze e workshop con i buyer europei i laboratori di archeologia sperimentale che saranno ubicati al Tempio di Zeus anche con una proiezione multimediale del viaggio di Olimpia ma anche gli stand dei parchi archeologici una sala con una installazione virtuale che illustrerà una narrazione anche inedita su quello che è il racconto del mito associato a ciascun parco archeologico e al tempo stesso le associazioni del volontariato che si ritroveranno con assemblee regionali incontri anche per terminare in sessione plenaria e approfondire quello che l'importante impegno che ogni socio attraverso il proprio tempo dà a favore del patrimonio culturale ci sono due obiettivi strategici uno di consolidare il sistema di relazione e di espressione all'esterno del sistema dei parchi che è un'assoluta novità in campo nazionale non solo siciliano quindi una proposta unica che abbraccia tutta la Sicilia e ci è sembrato più che giusto iniziare da Agrigento che si avvia ad essere capitale della cultura quindi è previsto anche un lancio da un punto di vista promozionale non solo del sistema dei parchi ma anche di Agrigento capitale della cultura qui siamo in un sito archeologico di grande importanza uno dei più grandi siti di quello che chiamiamo la Grande Grecia con Pestum con i tempi di alta qualità perché sono i tempi con questa architettura che ha una decorazione che non esiste da per tutto il mondo che si chiama l'architettura con il sistema dorico perché abbiamo sia il sistema dorico ionico ma dorico è il più anziano e avere dei tempi che vanno dal quinto e al quarto secolo davanti Cristo è veramente un elemento che ha fatto che l'UNESCO ha riconosciuto questo sito come sito del patrimonio mondiale già 1997 si svolgerà questa sera le 21 in piazza Amatrice a Bagheria Musi Cinema musiche da film per omaggiare il grande maestro Egno Morricone e il bagherese Giuseppe Tornatore l'evento è organizzato dall'associazione culturale Bagheria Bequadro il concerto sarà diretto dal maestro Giovanni Bondi 79 concerto della stagione concertistica città di Bagheria in 8 anni sono una media di 10 concerti l'anno insomma un bel numero e tra l'altro in questa stagione abbiamo ancora esattamente 7 concerti nel 2024 Musi Cinema Musiche da Film che l'anno scorso non è stato effettuato per ragioni organizzative e quest'anno abbiamo la gioia di poterlo realizzare con posti a sedere in Chiesa Madre in piazza della Chiesa Madre in Bagheria dove il coro Laudate Dominum è presente con dei solisti professionisti potrà offrire insieme alla banda Mascagni di Bagheria e poi Amici della musica di Belmonte Mezzagno sono due bande che sono insieme circa 80 musicisti 40 coristi 3 solisti service luci anche che fanno da scenografia alla piazza per omaggiare in verità due figure importanti bagheresi una direttamente e una indirettamente bagherese cioè Giuseppe Tornatore attraverso le musiche di Ennio Morricone quindi un grande momento musicale di estrema qualità dove tutti i musicisti e i cantanti sapranno offrire alla città di Bagheria un omaggio doveroso e decoroso a due figure che hanno fatto proprio della città di Bagheria un importante nome a livello internazionale anche attraverso l'Oscar che è stato ricevuto da Giuseppe Tornatore e chiaramente da Ennio Morricone Padre Giovanni Lamedola domenica 29 settembre terminerà il servizio pastorale come parroco della Chiesa madre di Bagheria ascoltiamolo per raggiunti limiti di età e in obbedienza al nostro vescovo eccellenza Corrado Lorefice è giunto il tempo di continuare il mio ministero sacerdotale non da parroco ma sempre a servizio della Chiesa di Dio che è in Palermo faccio mie le parole di San Paolo non mi sono sottratto al compito di annunziare il Vangelo di presentarmi con la volontà di operare sempre secondo coscienza nell'onestà nel fare la volontà di Dio nell'ubbedienza al vescovo e nel fraterno legame con il presbiterio diocesano di Palermo e con i parroci di Bagheria il mio grazie vada allora alla comunità della Chiesa Madre alle comunità parrocchiali di Bagheria ai confratelli parroci di Bagheria a tutti i confratelli sacerdoti e diaconi per gli attestati di stima di affetto manifestati il mio grazie sentito e deferente vada alle autorità civili e militari di ogni ordine e grado con i quali ho avuto in questi anni un rapporto rispettoso di fattiva collaborazione nell'unico intento di promuovere il bene comune per la crescita civile e religiosa di questa cara città che è Bagheria a voi tutti allora carissimi che avete voluto manifestarvi il vostro affetto chiedo la carità di pregare per me per il nuovo parroco Don Alerio Montalbano e per tutti i sacerdoti grazie e buon cammino per tutti non ci sono altre notizie grazie per averci seguito l'appuntamento ritorna con le prossime edizioni di Media News grazie a tutti 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 grazie a tutti